Una proposta musicale variegata e adatta alle diverse età. C'è grande attesa per il concertone gratuito del primo maggio a Capannori nella rinnovata piazza Aldomoro. Il programma dell'edizione 19, come da tradizione, prevede artisti di grande caratura per una giornata promossa da Comune di Capannori, Regione Toscana e numerosi sponsor. Il programma inizia alle 15 con la finale del contest Artemica Musica Dentro, concorso dedicato ai giovani. Alle 17 la piazza sarà già piena per Cristina D'Avena e Gen Boy Show, elementi apparentemente opposti, che arrivano da una stagione ricca di sold out in tutta Italia, con migliaia di ragazzi e adulti che si sono scatenati intonando le sigle dei cartoni animati. Alle 18.30 spazio al Rock dei Ross, semifinalista X Factor, giovanissimi artisti che arrivano da Montepulciano. Alle 19.30 il clou del concertone di Capannori con Simone Cristicchi, che dopo sei anni di successi teatrali, con oltre 300.000 spettatori e un Sanremo 2019 che lo ha visto, protagonista pluripremiato, torna in concerto in concomitanza alla pubblicazione dell'album Abbi Cura di Me. La chiusura alle 21.30 con Linda Lode DJ Set, tra i primi DJ toscani ad importare nuovi generi che spopolano oltreoceano e oltremanica, tra cui Trap, Jersey Club, Ghetto House, Rap Underground e UK Bass.